Con Mention della Balena Bianca si è parlato di amministrazione politica, rapporto con i partiti, lei è intervenuto al tavolo dei sindaci dei comuni inferiori ai 15.000 abitanti. E' un suo crucio, lei già da tempo dice che bisogna costruire un percorso per dare vita di nuovo ai partiti, cioè renderli di nuovo centrali nella vita politica. Certo, io sono convinto che i partiti sono necessari, sono necessari una democrazia matura, una democrazia complessa come sono le democrazia occidentali, hanno bisogno di partiti. Anche in Europa, in Germania, in Francia, in Inghilterra esistono ancora i partiti, e l'Italia invece è stata travolta da questo scandalo dei partiti, anche in località piccole, paesi piccoli come il mio o come la provincia di Casetti in Senzolato, c'è questa assenza dei partiti che secondo me è una spia di un malessere, è la spia dicendo qualcosa che non funziona. Io sono per il ritorno a partiti, però non ho indice come partiti che si appropria di una fette di poteri, ma come partiti che è un luogo di discussione, una palestra in cui si confrontano le idee, in cui si nascono i giovani, si formano, è come luogo di confronto, è come luogo anche di appartenenza ad un partito per sapere chi sta da un lato e chi sta dall'altro su delle idee e su delle temi. Quindi per me i partiti sono necessari e non a caso il mio movimento Speranza del Futuro è nato anche con questa ambizione. E proprio nel suo comune, negli ultimi anni c'è stato un degrado di quello che era la funzione dei partiti, personalismi, interessi personali che vanno ben oltre, andavano ben oltre il benessere invece della collettività. Come si esce da questa situazione? Lei già ha mosso alcuni passi. Si esce facendo partecipare la gente alle decisioni, si esce allargando la base democratica del consenso. Io personalmente riunisco periodicamente il direttivo, partecipo alle riunioni del direttivo, stimolo il direttivo anche in maniera volta anche all'assemblea del movimento affinché possano essere partecipi alle decisioni che dobbiamo assumere a livello amministrativo. Quindi si esce da questo impasse, soprattutto se la parte amministrativa si apre alla società civile, si apre al territorio, si apre a quelli che non hanno ruoli istituzionali di consigliere di assessori, facendo discutere, ascoltando le loro posizioni e facendo in modo che siano parte del processo decisionale. Il meeting della Balena Bianca è una piattaforma importante per iniziare a ragionare in questa direzione. Certo, io ho apprezzato molto questa iniziativa perché consente a tanti sindaci di potersi confrontare, consente su scala provinciale di avere una visione completa e complessiva del territorio. Ho apprezzato anche i contenuti, cioè questa voglia di confrontarsi da sindaci di diversi schieramenti, diverse idee, diverse appartenenze, diverse realtà locale. Ed è positivo che in provincia di Caserta ci sia questo luogo in cui si possa confrontare e quindi ho partecipato molto volentieri.